Ti chiedo di raccontarci l'azione del gol perché è stato un po' confuso, loro hanno anche protestato se voi avete capito qualcosa dal campo e poi ti chiedo della prestazione generale perché nel primo tempo sembravate un po' troppo lenti nello sviluppo della manovra poi nel secondo, soprattutto dopo il tuo ingresso, avete accelerato, avete creato tanto fino ad arrivare alla rete e poi dopo cosa è successo perché la squadra è sembrata un po' abbassarsi, forse pensava che il più era stato fatto? Buonasera a tutti, per quanto riguarda il gol, sono rimasto sorpreso anch'io perché non ero girato i ragazzi mi hanno detto che l'arbitro aveva fischiato un fuorigioco, non so di chi perché comunque la palla è stata deviata da un giocatore loro e poi secondo me il guardialine gli ha detto che è stato uno di loro quindi penso sia stato quello il loro dubbio, non credo la mia posizione perché comunque era regolare dopo sì, secondo me inconsciamente ci siamo abbassati perché magari si avvicinava la fine della partita quindi vuoi o non vuoi un pochettino ti abbassi a base baricentro e quindi abbiamo fatto l'errore di abbassarci qualche metro e poi ancora pecchiamo un po' di inesperienza, un po' di furbizia perché magari una partita così in casa dopo che hai fatto un grande secondo tempo la devi portare a casa, ecco sono due punti persi perché quando vai in vantaggio e sei in casa e stai giocando anche bene è giusto che la partita finisca 1-0 Un bel abbraccio da parte dei compagni, eravate riusciti a rispondere anche a qualche critica arrivata forse dopo la prima vera partita toppata in un inizio di stagione tutto sommato positivo Sì, se ogni partita che toppiamo dobbiamo subire critiche secondo me è un po' ingiusto perché comunque durante un campionato ci sta a sbagliare qualche partita Adesso abbiamo sbagliato contro il Sorrento, spero che non succeda più ma se dovesse succedere comunque fa parte del gioco, fa parte del campionato, fa parte di una squadra che comunque è nuova è giovane e quindi sono cose che possono succedere La cosa positiva è che ci siamo resi conto della brutta partita che abbiamo fatto contro il Sorrento l'abbiamo archivariata subito e come avete visto oggi abbiamo reagito Secondo me, ripeto, non è giusto ricevere tutte le critiche per una partita sbagliata anche se abbiamo perso in malo modo però una squadra che sta crescendo, che è nuova ed è ancora in costruzione perché sono passati appena due mesi e mezzo da quando abbiamo iniziato ripeto, non è giusto subire critiche, attacchi eccetera eccetera la squadra va sempre sostenuta poi sicuramente fa parte del gioco ricevere critiche, però non più di tanto Alla vigilia proprio di Sorrento, Mr. Modica ha detto che si aspetta molto da te il tuo doppio passo oggi oggettivamente sei entrato e hai spaccato la partita ti chiedo a che punto ti senti della tua condizione? Io so bene, è normale però che giocando ogni tre giorni adesso hai anche poco modo di allenarti diciamo con una settimana tipo dove hai giorni precisi per fare ogni tipo di lavoro diverso quindi la condizione può arrivare solamente giocando in questo periodo qua che si gioca ogni tre giorni però ecco io mi sento bene, sto bene sono e sarò sempre a disposizione del mister poi farà lui le sue valutazioni Ciao, mi hai un po' anticipato perché parlavi proprio delle partite ravvicinate forse ancora la squadra non è in condizione di giocare tutte queste partite perché partiamo da Avellino, Catania, due partite infrasettionali forse sono troppe No, secondo me non è questione di condizione perché a livello atletico stiamo bene abbiamo lavorato tanto quindi abbiamo una buona base per reggere le partite ogni tre giorni su quello non ci sono dubbi anche perché non mi sembra ci sia stato un calo fisico al massimo ci siamo abbassati come baricentro, come squadra ma non per un calo fisico magari per difendere un risultato che si avvicinava alla conquista dei tre punti la squadra secondo me è ancora giovane e pecchiamo come ho detto prima di inesperienza sicuramente dobbiamo essere più furbi, più svegli, un girone è una categoria dove la furbizia fa da padrona quindi dobbiamo essere magari più maliziosi in mezzo al campo e sono magari quelle piccole cose che ti mancano adesso per raggiungere il risultato prima. Vi faccio un esempio contro il Sorrento nel secondo tempo non si è più giocato perché il Sorrento era sempre a terra, avevano i crampi o pseudo crampi quindi diciamo sono quelle piccole cose, quella malizia che ancora ci manca che ci può far sì che magari sia oggi che la partita con la Turris potevi concludere con tre punti e tre punti Milioti, tempo stretto? Evidentemente non hai ancora i 90 minuti nelle gambe, il campo dice che forse sei più utile alla squadra subentrando piuttosto che partire al titolare, tu come la vedi? Se faccio 90 minuti fatti male magari non ho 90 minuti nelle gambe non ho mai avuto la possibilità di fare 90 minuti quindi ovviamente con cinque cambi gli attaccanti sono quelli che magari spendono un po' più di energia è giusto che il mister li faccia girare però per scoprire se ho i 90 minuti nelle gambe io credo che un giocatore debba fare 90 minuti e poi essere valutato